Bellas Gay! Io sono Marinowski, benvenuti in questo nuovo video riguardante... di tamburi, perché non se lo aspettava probabilmente nessuno Dead by Daylight, perché è uscita la patch di metà stagione la patch notes, quindi si tratta di una patch notes questa qui, 7.3.0 incredibile, perché c'è una meccanica che andrà a mettere in difficoltà, probabilmente o probabilmente no, e non si sa dei vari killer e non sarà solo per questo video, ci faremo aiutare dal qui presente Brutale Brutale, buonasera, o buongiorno, buon pomeriggio, a seconda di quando verrà visto questo video o buonanotte, non si sa ci faremo aiutare da Brutale, perché è una patch molto importante, no? Brutale, se parte innanzitutto da... cos'è che potrebbe mettere in difficoltà i vari killer? o forse no, forse no allora, di sicuro la cosa più importante che è stata aggiunta è l'anti-face camping dico anti-face camping e non anti-camping, perché in realtà va a counterare effettivamente soltanto il face camping diretto che veniva fatto da alcuni killer, nel senso mettersi proprio frontali vicino al sopravvissuto appeso al gancio e aspettare che sostanzialmente muoia sull'uncino e impedire quindi il save purtroppo è una meccanica che non funziona molto bene se il killer, invece di starti proprio attaccato, sta comunque nei paraggi perché comunque il killer può comunque restare nei paraggi e non riuscirai comunque a liberarti quindi diciamo che è una cosa che secondo te andrebbe un attimino sistemata, cioè non è così perfetta come hanno lasciato intendere gli sviluppatori e quando l'hanno presentata, comunque innanzitutto rilasciata nel PDP, poi ci sono state immagino delle modifiche, però secondo te cosa andrebbe migliorato? la meccanica è questa, allora se tu sei appeso a un gancio e non ci sono altri sopravvissuti vicino e non sei in endgame perché ricordiamo con 5 generatori completati questa meccanica si disattiva quindi se il killer, te che sei appeso al gancio e non ci sono sopravvissuti vicini, è vicino a te in un raggio di 16 metri dovrebbero essere più è vicino a te, più si carica una barra che è stata aggiunta questa barra una volta completa ti permetterà di autoliberarti dal gancio anche se sei in seconda fase questa competenza si attiva più lentamente, avanza più lentamente la barra se il killer non è proprio attaccato a te ma è un po' più distante quindi oltre diciamo gli 8 metri e si disattiva completamente se ci sono altri sopravvissuti, feriti, anche morenti a terra o in piedi vicino a te la barra progredisce più lentamente anche su mappe a più piani quindi se tu sei appeso sopra o sotto e il killer è sopra o sotto la barra dovrebbe progredire più lentamente tenendo conto quindi dei livelli dei piani il killer che più di tutti usava il camping all'uncino era l'Etherface, il cannibale Bubasour come lo vogliamo chiamare lui era proprio il camperone per eccellenza la differenza qual è da prima per Bubba? assolutamente nessuno perché se tu ti liberi da solo davanti a Bubba comunque con la tua motosega lui l'attiva ti tira due o tre colpi di motosega anche se sei nella fase di... se hai la protezione liberandoti dall'uncino che comunque rimane la classica protezione che c'era di 10 secondi sia di protezione dall'andare a terra quindi anche di fretta non basta contro di lui perché ti riatterrerà di nuovo specialmente se vai a finire nel basement ricordiamo che nella funzione di autosalvataggio se ti liberi da solo questi secondi in cui tu hai l'endurance per resistere ai colpi è aumentata di 5 secondi quindi non è 10 ma sono 15 secondi comunque non bastano nel momento in cui c'hai un Bubba ma anche un Myers con se vogliamo il doppio iridescente che quindi ti può fare un mori appena ti grabba quindi se tu ti liberi con un Myers che ti sta facecamperando sostanzialmente tu andrai nelle sue braccia e lui ti morizza quindi assolutamente ci sono killer che già ti facecamperavano prima per i quali non cambia assolutamente quindi quello che tu stai suggerendo poi correggimi se sbaglio è che avrebbero dovuto nerfare alcune possibilità per questi killer secondo me semplicemente i 5 secondi in più non sono sufficienti secondo me bisognava dare altro nel senso che se un killer ti hitta viene rallentato oppure il sopravvissuto prende più speed più velocità oppure ancora alcune meccaniche tipo il mori non si possono fare direttamente quindi per esempio Myers non può morizzarti direttamente appena ti liberi dall'uncino davanti a lui cioè dovevano comunque mettere delle meccaniche ancora più protettive per rendere effettivamente efficace perché quindi per alcuni killer questa meccanica purtroppo non funziona è inefficace, è inefficace, non va è inefficace e a ogni modo i cambiamenti che ci sono stati tra la versione dell'anti-face camping nel PTB e in quest'ultima patch rilasciata secondo te sono stati quindi insufficienti? cioè che voto daresti a questa meccanica? i cambiamenti che sono stati fatti dalla PTB comunque sono stati assolutamente buoni perché rispetto alla PTB dove non venivano calcolati i piani differenti di altezza che praticamente ti liberavi anche se il killer era sopra di te ti potevi anche liberare se c'era un sopravvissuto a terra vicino a te quindi costringendo il killer sostanzialmente a lasciare l'uncino protetto anche se doveva, ha più senso per un killer pattugliare un uncino con un altro a terra invece così con la nuova meccanica che è stata cambiata non ti puoi più liberare se c'è uno a terra inoltre un'altra cosa importantissima che hanno aggiunto dalla PTB è che quando il killer ti appende prima di attivarsi il timer dell'anti-face camping ci sono 7 secondi di tempo prima che inizi a scalare il tempo dell'anti-face camping quindi ci sono 7 secondi in cui il killer ha tutto il tempo per allontanarsi dall'uncino quindi alla fine quello che hanno cambiato dalla PTB a live è buono solo che rimane comunque una meccanica appunto debole per questi punti perché alcuni killer che ti face camperano comunque per loro non cambia nulla e per chi comunque non campera ma proxy campera quindi gira pattuglia intorno all'uncino entro il raggio di 16 metri comunque ti costringe a... non cambia nulla insomma è una meccanica interessante ma che va migliorata per l'approccio diciamo di alcuni killer che fondamentalmente non la sentono così tanto come hai giustamente detto tu ultime cose che vale la pena andare a guardare e magari in una maniera un po' più veloce visto che l'anti-face camping come avevi anticipato anche tu è fondamentalmente il perno di questa patch è quella la cosa più importante che ha attirato l'attenzione di vecchi e nuovi giocatori di Dead by Daylight potremmo andare a vedere velocemente il rework che c'è stato per quanto riguarda la cacciatrice dei teschi poi magari mi introduci anche il tuo pensiero su questo killer nel senso se è un killer debole forte o a metà strada insomma mi direi la tua riguardo e poi dei piccoli cambiamenti che ci sono stati per esempio per il cacciatore e per magari la cacciatrice se non sbaglio pure il trickster c'è stato un piccolo cambiamento magari importante vai a te la parola per quanto riguarda il rework della cacciatrice dei teschi anzi no innanzitutto ho detto una cavolata mercante dei teschi regia scusate regia puoi montare tu? ci pensi tu a correggere la mia... ok no ci pensi alla... ok a posto? e prego prego brutale allora per quanto riguarda la mercante dei teschi che è stata completamente cambiata perché? perché prima i suoi droni che erano... mettevano praticamente un'aura che non solo dava la notifica al killer dove era posizionato il sopravvissuto ma sostanzialmente costringevano i sopravvissuti in partite eterne perché veniva considerato sempre una meccanica basata sul trigen nel senso che la mercante pattugliava i tre generatori più vicini in endgame tramite i droni che mettevano l'exposed e quindi la vulnerabilità e ti faceva durare le partite un fottio per cambiare questa meccanica e quindi non far più in modo che i sopravvissuti prendano la vulnerabilità stando vicini ai gen hanno fatto molti cambi intanto i droni non mettono più l'exposed e la vulnerabilità ma al contrario se i loro laser ti colpiscono per tre volte semplicemente ti attaccano la trappola spia che già prima era presente e ti attaccano questa trappola spia e ti feriscono mettendoti lo stato di sconforto i broken cioè non puoi essere curato finché hai la trappola spia addosso vieni spottato ma non puoi essere curato e rimani ferito vieni anche rallentato per un tot vieni rilevato dalla mercante proprio come era prima nel suo radar è disattivata invece la meccanica che prima era presente che con la trappola spia se saltavi su un pallet lo spaccava e un'altra cosa i droni adesso sono di più e li poi hanno un raggio superiore rispetto a prima ne puoi mettere di più ma hanno un cooldown nel piazzarli l'uno e l'altro e li puoi mettere più vicini tra loro però se tu sei fermo letteralmente fermo il laser che ti colpisce più volte non fa incrementare il tuo contatore diciamo di danno e quindi tu puoi effettivamente rimanere fermo su un generatore e fare il generatore perché tanto non prenderai il danno e diversamente se tu ti muovi prenderai il danno dai laser e quindi andrai ferito è un po' caotica da spiegare la mercante perché veramente ha tante tante funzionalità adesso come è adesso però è pensate in modo che i suoi droni vengono non più usati vicino ai generatori proprio perché stando fermi non prendi la trappola ma diventa un vero e proprio anti-loop costringendo il sopravvissuto a cambiare zona perché se rimane nella zona in cui è presente il drone prendendo tre volte il laser vai ferito prendi meno speed dal ferimento vieni rallentato e la mercante è più facile per lei quindi atterrarti perché sarai già ferito inoltre la mercante non prenderà più lo stato di impercettibile stando nell'ora dei propri droni ma semplicemente prende per qualche secondo l'impercettibile solo dopo aver piazzato il drone e questi diciamo sono i cambi fondamentali senza entrare nei dettagli sulla mercante quindi hanno cercato di diminuire la durata delle partite con la mercante perché sennò tra virgolette i sopravvissuti potevano continuare a lupare e fare un po' come gli pareva insomma renderla meno noiosa e in più orientarla verso i chase ok perché altrimenti rimaneva lì come hai detto tu impercettibile vicino ai suoi droni e questa cosa non andava bene secondo i carissimi amici di Dead by Daylight quindi di Bejahour e poi invece per concludere cosa hanno cambiato nel per il cacciatore e per i due diciamo killer diciamo la cacciatrice il trickster allora semplicemente sia la cacciatrice che l'ingannatore ricaricheranno più rapidamente di un secondo dagli armadietti semplicemente questo mentre il cacciatore ha avuto un buffo leggermente superiore perché innanzitutto le trappole si generano più vicine ai generatori non costringendo il killer ad andare in giro per la mappa verranno spawnate otto trappole sulla mappa invece che se come prima la cosa più importante invece è che proprio come era prima una donna adesso di base il cacciatore otterrà l'effetto fretta per 7.5 del 7.5% per 5 secondi dopo che inizia a posizionare la trappola quindi avendo una trappola in mano il trapper può tranquillamente far finta di mettere la trappola senza posizionarla semplicemente per ottenere la velocità la donna che prima faceva questa cosa aumenta semplicemente la fretta che dà questa questa dinamica base che adesso è stata aggiunta al cacciatore la cosa bella regà la cosa bella che io sto e che vorrei dire è che Brutale non sta leggendo nulla regà lui sa per certo tutte le percentuali e adesso nel momento in cui l'ho interrotto si è ricordato pure di dirmi due eroi che io non ho menz... due eroi ormai ormai sto sui pianeti di overwatch e oltre due killer che non ho menzionato per quanto riguarda i cambiamenti che appunto sono l'Araldo che stavi per pronunciare e poi la Legione e parola a te beh la Legione in realtà hanno semplicemente modificato una donna non c'è molto da dire anche l'Araldo semplicemente l'hanno rivelocizzato un po' più la ricarica e hanno modificato anche lì alcune donne l'altra cosa in realtà molto importante è che hanno modificato due perk in seguimento furtivo del killer che l'hanno completamente modificato e adesso ha una funzione che funziona solamente quando ci appende l'ossessione ti dà l'effetto impercettibile dopo aver appeso l'ossessione e una percentuale di fretta per massimo 18 secondi però ogni volta che viene liberata la persona in questione appesa dal gancio chi la libera diventa la nuova ossessione non molto usato il perk che invece veramente è stato baffato ed è già molto usato in questi pochi giorni con il perk comparsa che se non sbaglio è di Renato Lira dovrebbe essere non c'è scritto qui quindi è una cosa in più quindi l'abilità comparsa che adesso dà il 200% di velocità che è tantissimo invece del 150 che era prima per 5 secondi quando il killer solleva un sopravvissuto da terra questo ti permetterà di fare i save di pallet di torcia di flash più velocemente perché ovviamente appena il killer alza il surf tu puoi scattare verso il surf pure semplicemente usarlo per muoversi in giro per la mappa più velocemente nel momento in cui sempre il killer solleva il sopravvissuto ma a questo punto vorrei sapere siccome hai fatto questa dissamina perfetta di questa nuova patch mid season che ricordiamo essere la patch 7.3.0 da 1 a 10 che voto gli daresti per la mercante è ancora un forza nel senso è ancora all'inizio bisogna valutarla bene giocando quindi non si sa l'anti-face camping ci voleva intanto semplicemente solo per evitare quel gameplay tossico di alcuni killer semplicemente di stare proprio frontali al sopravvissuto che dava molto fastidio quindi già solo per quello in realtà ci sta ma andrebbe migliorata e mentre i buff al calciatore il buff al calciatore assolutamente ci sta anche il buff a comparsa è un bel buff è già molto usato quindi vedremo quanto value potrà dare il sopravvissuto che lo utilizzeranno cioè come ultima cosa da dire che è stata modificata anche la mappa la piazza destrutta la mappa del cavaliere rendendola un po' più piccola e rendendo i loop un po' più fluidi ok io ogni modo ringrazio il bomb brutale per questa esponenziale incredibile mastodontica fantasma no fantasmagorica no perché è reale e disamina della patch note un saluto al vostro marioski anche dal buon brutale noi a questo punto ci rivediamo in un prossimo video e ricordatevi sempre let's go ski let's go si è così un saluto 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 un saluto